Inaugurato questa mattina in via della bonifica a Pescara l'orto urbano sociale dedicato ad Antonio Ortolano, sindacalista Will, scomparso recentemente. L'orto ricavato su un'area di proprietà del comune di Pescara nei pressi della Pineta Dannunziana sarà gestito da una cooperativa sociale con l'obiettivo di produrre ortaggi ad uso domestico. L'orto è stato consegnato alla città di Pescara da Uniat Nazionale, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela del diritto alla casa e nella promozione di attività culturali sui temi ambientali insieme a Will Abruzzo, associazione generale cooperativa italiane, cooperativa sociale ledera e dal consorzio impresa e sociale. Sono queste anche le iniziative che fanno sì insomma che il sindacato sia sempre più in mezzo alla gente? Assolutamente sì, la Will ha deciso ormai da tempo di occuparsi oltre che sui temi sindacali, prettamente sindacali nella rappresentanza dei lavoratori, anche sui temi del sociale. Questo è un momento importante per Pescara, non sarà l'ultimo perché faremo l'anno prossimo un'altra attività di natura sociale rivolta ai ragazzi diversamente abili. Per cui sulle attività sociali la Will investirà molto nel prossimo futuro, sempre per diventare un sindacato di riferimento delle persone. Intanto cominciamo col dire che Antonio è stato un grande dirigente sindacale, io ho avuto il piacere di conoscerlo l'indomani che lui, e parlo degli anni 80, i primi anni 80, è stato anche subito nominato segretario generale della Camera Sindacale di Pescara e ho potuto subito apprezzare quando lui fosse dotato di quella sensibilità, quella se vogliamo anche chiamarla quella garbatezza necessaria anche alla funzione istituzionale che è quella del sindacalista e ha fatto sì che potesse in breve tempo assumere quel ruolo, quella certa autorità, quell'autorevolezza. Lo ricordiamo con grande affetto, io gli ho sempre voluto bene e ripeto per me rimarrà sempre nel mio cuore come del resto e rimarrà sicuramente con tutti noi.